Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Chef in quattro ore di Timothy Ferris. Chef in quattro ore è molto più di un libro di cucina, è un modo di pensare, di vivere, un film d'avventura in cui i protagonisti siete voi. Dovete leggerlo perché diventerete campioni di qualunque specialità a tempo di record. Mangiare e vivere diventeranno un'esperienza in alta definizione. Non sarete mai stati tanto in forma e vi divertirete come pazzi. Cominciamo subito con il riassunto di questo libro. This e caffè. Ciò che si studia è spesso più importante di come si studia. Puoi passare molto tempo a studiare cose che non ti servono, imparare ad esempio la parola nipote in spagnolo quando non hai nipoti. Ci sono però due lenti per vedere i metodi di apprendimento. Il this e il caffè. Il tuo metodo è efficace, hai ristretto il tuo materiale al massimo, il tuo metodo è sostenibile, hai scelto un programma e una materia che puoi portare avanti fino a raggiungere la semplicità. Riuscirai ad ingoiare la pillola che ti sei prescritto? Usa this e caffè come strutture per l'apprendimento. Si tratta di due principi che Ferri spiega e che insegna ad usare in questo libro. This è composto da cinque lettere. La D è decostruzione, le tre S sono selezione, sequenziamento e i palletti stakes in inglese. Per decostruzione si intende quali sono le unità minime di apprendimento e i blocchi con cui dovresti iniziare. Selezione quale 20% delle attività vi darà l'80% dei risultati. Sequenziamento, in quale ordine dovrai imparare quel 20%. I palletti, come potete creare dei veri palletti per essere sicuri di seguire il programma che vi siete prescritti. Questi palletti possono essere considerati le agende oppure le discipline che vi servono per non rinunciare al vostro programma. Caffè, la prima C sta per comprensione, F sta per frequenza e E sta per codifica, encoding. Comprensione, posso comprimere il 20% più importante delle attività in una pagina facile da riassumere. Frequenza, quanto frequentemente dovrei esercitarmi, qual è la quantità minima di tempo che devo decidere di dedicare all'esercitazione e encoding, codifica come posso ancorare ciò che già so per un rapido richiamo. Gli acronimi sono un esempio. Vediamo il modello DIS nei dettagli. Decostruzione, si può scomporre la decostruzione in quattro pezzi, ridurre, intervistare, invertire e tradurre. Ridurre, bisogna capire le parti composte in cui si può scomporre l'abilità, ad esempio i caratteri kanji del giapponese. Intervistare, bisogna trovare qualcuno vicino al top o che era il top con cui puoi parlare dell'abilità, un'abilità che a te interessa acquisire ad esempio. Fai una lista di persone da intervistare, contattali e trova un modo per fornire valore in cambio del loro tempo, ad esempio intervistandoli e presentandoli. Potete invitarli a prendere un caffè, a mangiare qualcosa insieme. Le persone di successo solitamente tendono ad accettare in questi casi perché hanno piacere nell'insegnare agli altri ciò che hanno imparato dalla vita. Bisogna fare le domande, alcune domande di esempio. Ad esempio se si tratta di un tema di sport. Chi è bravo in questo sport nonostante sia mal costruito per questo? Chi è bravo quando non dovrebbe esserlo? Queste sono le persone da intervistare perché riescono a battere i pregiudizi, diciamo così. Chi sono gli sportivi o gli allenatori più controversi o poco ortodossi? Perché? Cosa pensi di loro? Chi sono gli insegnanti meno conosciuti e più impressionanti? Cosa ti rende diverso? Chi ti ha allenato o influenzato? Hai addestrato altri a farlo? Hanno replicato i tuoi risultati? Quali sono i più grandi errori e miti che vedi nell'allenamento di oggi? Quali sono le più grandi perdite di tempo? Quali sono i tuoi libri o risorse istruttive preferite sull'argomento? Se le persone dovessero insegnare da sole, cosa suggeriresti loro di usare? Se dovessi allenarmi per quattro settimane per una gara di questo sport, ad esempio, che ne so, pallavolo, eccetera, e avessi un milione di dollari in gioco, come sarebbe l'allenamento? E se mi allenassi per otto settimane? Cambierebbe qualcosa? L'inversione. Cosa succederebbe se facessi le cose al contrario delle pratiche comuni? Tradurre. Trovare un modo comune per spiegare tutte le parti composte dell'abilità. Questo è un ottimo modo per immeggersi rapidamente nelle parti composte quando si parla con qualcuno che è più esperto. Cerca i piccoli trucchi di ogni abilità che ti permettono di prenderla molto velocemente. Selezione. Una selezione semplice funziona. Il complesso, le cose complesse falliscono. Concentrati sui pezzi più importanti che ti daranno la maggior scioltezza possibile nell'abilità. 100 parole ben selezionate ti danno il 50% di una lingua. Qualunque sia l'abilità trova i pezzi che ti daranno la maggior leva più velocemente. Sequenziamento è il carico sulla memoria di lavoro che rende qualcosa facile o difficile. Una buona sequenza può ridurre il carico di lavoro mettendo le cose in fila. Molti giocatori di scacchi efficaci iniziano imparando prima le mosse finali. Ci sono molte abilità che sono implicite, cose che i perfezionisti fanno senza saperlo e che non penseranno di insegnarvi. quali sono i punti in comune tra i migliori concorrenti. Quali di queste non vengono insegnate attivamente nella maggior parte delle classi. Quali abilità trascurate che ti aiuterebbero a diventare bravo in modo rapido sono da considerare o riconsiderare. I paletti come si fa a rendere il fallimento il più doloroso possibile. I bastoni funzionano meglio delle carote a causa dell'avversione e la perdita. Caffè. Comprensione. Il modo più semplice per evitare di essere sopraffatti è quello di creare vincoli positivi. Limitare qualsiasi cosa si stia cercando di fare. Sfruttare la legge di Parkinson invece di farla lavorare contro di te. Crea una guida prescrittiva e una pratica. Prescrittiva delle cose che devi fare. Le regole. E una pratica per le cose del mondo reale da praticare che si basano sulla pratica degli elementi che hai scritto, ossia della guida prescrittiva. Comprimi il più possibile per tenere tutto nella tua testa. Così diventa facile da rivedere e ripassare. Frequenza. l'apprendimento delle competenze tenderà a seguire una curva come questa, come la crescita dell'azienda o le relazioni e altre cose. Quindi una curva fatta di alti e bassi. Sulla base della curva si possono prevedere battute d'arresto, crescita, decrescita eccetera. Fate regolarmente delle pause. Ricordiamo meglio le cose all'inizio e alla fine delle sessioni. Quindi più pause uguali a più benefici dal nuovo inizio dopo la pausa. Codificare. La codifica ti permette di prendere cose che non ti sono familiari e renderle familiari. Trasformarle in pezzi che puoi collegare alla tua conoscenza esistente. Suddividere le cose in pezzi più memorabili. Invece di cercare di ricordare ogni singolo pezzo o l'intera cosa in una volta sola. Usa un palazzo della memoria per ricordare cose come numeri, carte eccetera. Si mettono determinate informazioni in determinate stanze o cassetti nel proprio cervello. Un po' come nella serie Netflix Sherlock Holmes. Sherlock fa così, riesce a ricordarsi qualsiasi momento, qualsiasi esperienza passata nei minimi particolari perché conserva tutto nel palazzo della memoria. Ci sono anche modi o metodi per farlo nella vostra stanza, non nella testa. Ad esempio in un cassetto della cucina mettete solo informazioni riguardo a una lingua che state imparando. Ad esempio in un altro cassetto cose che riguardano il vostro lavoro. Se le informazioni le immaginiamo in determinati cassetti all'interno della nostra casa, in un armadio eccetera, è più facile poi ricordarsi quelle informazioni perché se la memoria viene abbinata all'immaginazione, secondo molti autori come ad esempio O'Brien, il campione del mondo della memoria, otto volte se non ricordo male. Appunto se abbiniamo memoria e immaginazione è più facile ricordarsi qualsiasi cosa, anche informazioni che non hanno senso, come ad esempio tutte le carte di un mazzo di carte, dalla prima alla 52esima o 54esima. Si tratta di un modello molto facile, concettualmente, e se lo implementate con un po' di pratica vi sarà facile adottarlo a qualsiasi materia o area della vostra vita e i risultati saranno molto soddisfacenti. Questo ve lo assicuro perché l'ho provato anch'io. Questo era il libro Chef in 4 ore di Timothy Ferris, un libro che migliorerà esponenzialmente la vostra qualità di vita. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!